Rinnova l'invito ad un incontro in prefettura per arrivare a definire misure di sicurezza utili a difendere gli autisti dei mezzi di trasporto pubblico Gerardo Arpino, sindacalista della Filt CGL, che ha inoltrato una nota dopo l'ennesima aggressione subita ieri da un autista di Sita Sud nel comune di Agerola da parte di alcuni utenti, scagliatisi contro il conducente a causa del sovraffollamento dell'autobus. È necessario, scrive Arpino, porre la massima attenzione sul tema della sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico locale ed è fondamentale un intervento urgente. In questo è l'ennesimo atto di aggressione perpetrata ai danni di un conducente. Basta ricordare che solo qualche settimana fa ne abbiamo avuto un altro nei confronti di un autista di Bus Italia, oggi è toccato alla Sita. Bisogna ricordare che questi conducenti sono alla Mercè, al centro della strada. Noi chiediamo da più tempi a gran voce un tavolo tecnico istituzionale in prefettura. Abbiamo inviato una nota congiunta, CGL Cisle Will, al prefetto per tentare di aprire un percorso che possa saturare questa difficoltà. L'aggressione di ieri è avvenuta per un motivo abbastanza futile. In costiera si lavora e si viaggia in condizioni disperate a causa dei sovraffollamenti. Ieri un utente sicuramente stanco di aspettare ha aggredito da prima verbalmente e poi solo grazie alla bravura del collega non si è arrivato alle mani, ma questo utente ha distrutto a cazzotti la porta dell'autobus. Bisogna semplicemente sottolineare che la sicurezza da parte delle aziende non può essere vista come un costo, ma è una necessità sia per i conducenti ma soprattutto per gli utenti, perché bisogna ricordare a tutti, in primis a me, che il trasporto pubblico locale è un servizio sociale e quindi pertanto va tutelato. Abbiamo inviato una nota congiunta in prefettura per chiedere l'istituzione di un tavolo insieme alle aziende, insieme al prefetto per tentare di saturare questa emergenza. Attendiamo ancora oggi, è vero è stato un mese che l'abbiamo inviata, però capiamo anche i tempi tecnici visto che siamo in contro l'estate, però come dicevo la sicurezza è una necessità. Pertanto invito a tutti gli attori principali di questa vicenda di stringersi intorno ad un tavolo, tentare di trovare una soluzione, una soluzione che tenga dentro tutti i problemi del trasporto pubblico locale e che possa finalmente mettere la parola fine a questa vicenda.